Il tetto del comune si sa è da tanti anni che è in una situazione di abbandono che non è stato mai manutenuto. Partiranno i lavori che saranno fidati entro la fine dell'anno per la sistemazione di un ampio tratto di tetto, per un totale di lavori di circa 150.000 euro. Sono già partite le lettere di invito alle ditte, quindi ci aspichiamo di assegnare lavori entro il 31 dicembre. I tempi dei lavori dipenderanno dalla situazione meteo, quindi questa è una risposta a un'esigenza anche delle persone che lavorano qui e che comunque qui ci stanno tutto il giorno.